La normalità, insicurezza, perché il nemico è sempre dietro l'angolo, ma bisogna fare in modo che si riparta. E non è una visione, come si può dire, cinica per pensare solo i soldi. La si finisca, io capisco che in giro per l'Italia qualcuno sia meno interessato delle attività produttive. Ma qui noi manteniamo le nostre famiglie e il resto d'Italia, chiaro? 150 miliardi di PIL sono una buona fetta. L'Italia non si può dimenticare di questa zona produttiva e di altre zone improduttive importanti come la Lombardia, l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e altre regioni che non ho citato. La nostra recessione è la recessione dell'Italia. Io dico questo, vedo che dicono che sconfino, ma cosa vuol dire sconfino? Ma cosa vuol dire? Chi qua ha sconfinato? Il governo che ha sollevato le regioni? Cioè, come si può dire? E noi lo abbiamo accettato, nel senso che con grande senso di responsabilità, assieme ai colleghi di regione, c'è un'emergenza, il governo si faccia regista in tutta questa partita. E poi qualcuno viene a dire che sconfino? Ma sconfino che? Guardate, visto che sconfino, com'è che si dice? Quei sconfini si risponde sempre con praticità. E questa mattina ho firmato un'altra ordinanza. Allora, sempre raschiando il barile, è consentito, in questa ordinanza che poi divulgheremo, all'applicazione dalle 6 di stasera per le attività che riguardano i cittadini. Le attività poi capirete quali vi dite. E da domani mattina alle 6, per altre attività, semplicemente per dar modo ai prefetti di coordinarsi per le forze dell'ordine, che poi non si dica che i cittadini sono informati prima, giustamente, con il massimo rispetto di chi controlla. Quindi c'è modo di coordinare. L'ordinanza che firmo, la firmo appena finita la conferenza stampa, dice questo. Tutta una premessa che parla di dati epidemiologici, sanitari, terapie intensive. E siamo giunti a questa conclusione. Primo punto. È molto breve. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta e altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di un metro tra le persone, salvo quelle accompagnate quando minori o disabili o non autosufficienti, utilizzando mascherina, guanti o comunque garantendo l'igiene. Può dire che si esce di casa, per capirci. Senza limitazione e quindi si può passeggiare, far giochi e un quant'altro, almeno nel territorio comunale. Poi, e questo è valido dalle 6 di stasera, scusate che ho perso, eccolo qua. 2. È consentito per i residenti in regione lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Questo vuol dire che chi ha una seconda casa andrà a vedere se ha rotto i tubi col gelo piuttosto che se parte ancora l'impianto di allarme o ha delle manutenzioni da fare è legittimo che in regione di Veneto possa raggiungere la seconda abitazione non per andarsi a dimorare ma per fare ovviamente quello che dovrebbe fare il buon padre di famiglia o quindi vigilare sul suo patrimonio. 3. Questo punto è attivo da domani mattina alle 6 questo ragionevolmente per evitare che le forze dell'ordine in strada trovino qualcuno che magari si sta già recando fra un'ora e dice ma cosa sia sta roba domani mattina alle 6 penso che sia più che ragionevole e rispettoso di chi controlla che ringraziamo per il lavoro che sta facendo. 3. E' ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo senza uscita di passeggeri il car delivery il take away in macchina il come si chiama evito di citare nomi commerciali perché? avete visto io sono stato criticato per l'asporto avete visto che dal 4 maggio è previsto l'asporto ma a me sembra ragionevole tutta sta gente che vedete in giro le avete viste anche voi le macchine a pranzo almeno abbiano la possibilità di andare con auto davanti a uno sportello dove uno gli dà un panino dentro di un sacchetto o va a prendersi un pezzo di pizza cioè io dico che le ordinanze vanno fatte anche pensando ai problemi che hanno le persone come penso che una persona che da 60 giorni che è in casa e può girare attorno a casa adesso cominciamo a dire che vada a farsi una passeggiata a respirare un po' d'aria dando anche un segno come si può dire di responsabilità da un lato ma anche di possibilità di tornare un minimo alla normalità guardate io l'avrei prese prima queste ordinanze però ero sempre nella speranza di dire che comunque ci sarebbe stato un provvedimento nazionale vedo che non c'è stato fino a questo punto peraltro leggendo il decreto non si capisce ancora cosa possono fare i cittadini dopo il 4 maggio c'è scritto che i parchi sono aperti ho capito ma non abbiamo ben capito non c'è scritto da nessuna parte quanto si può allontanare da casa un cittadino non vorrei che fosse come quella del bagno al mare che si può fare il bagno al mare se hai la casa in spiaggia però non vorrei che nei parchi ma prego scusami ma cosa significa questo l'uso del veicolo per il cibo da sport no a parte l'ambulante ma ad esempio tutte quelle catene che vendono il cibo che lo consegna allo sportello direttamente in auto all'americana il Mac Drive per capirci sì 4 negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali 5 è fatto obbligo per tutte le persone nelle attività economiche e sociali di distanziamento di un metro scusa rallento di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido per quanto 6 per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza vale quanto disposto dalle altre ordinanze che ho fatto quindi restano tutte in vigore la presente ordinanza effetto relativamente a disposizione del punto 1 dalle 18 di questa sera quindi si esce di casa e si va a farsi la passeggiata dove si vuole nel territorio comunale e relativamente alle disposizioni dalle le altre disposizioni quindi quella della seconda casa delle imbarcazioni dalle 6 di domani mattina di dare atto che la violazione delle presenti vabbè questa è una storia delle violazioni e comunichiamo ovviamente alla presenza del Consiglio dei Ministri il provvedimento lo comunichiamo alle prefetture le protezioni civile e ai sindaci quindi ringrazio tutti per la collaborazione e per la comprensione ai cittadini dico che stiamo lavorando tra governatori stiamo parlando di questo problema delle aperture spero vivamente che il governo possa rivedere alcuni step che si è dato e penso che sia fondamentale pensare che ci debba essere anche equità oltre che responsabilità l'equità vuol dire vi ho fatto l'esempio dell'autobus piuttosto che di altro considerate che se passano le norme nazionali i nostri autobus potranno portare un terzo dei passeggeri che portavano prima e che vuol dire che bisognerebbe moltiplicare per tre gli autobus e i nostri treni porteranno cittadini per la metà di quelli che portavano prima e quindi dovremmo raddoppiare i treni allora prima di tutto viene la sicurezza e la salute dei cittadini però noi non abbiamo ragione di pensare che misure di tutela delle persone con i dispositivi e di apertura vadano nella direzione di mettere nei guai i cittadini se poi accade che ripartono di focolaio quant'altro ovviamente si dovranno prendere delle misure cioè non è escluso che possa accadere e non è neanche escluso che si debbano magari circoscrivere i focolai però non possiamo neanche stare in casa a pensare al focolaio che forse ci potrà essere lo dico non da irresponsabile lo dico con la responsabilità di un governatore che deve pensare alla salute dei veneti però oggi qui la salute diciamo fisica si sta sovrapponendo a quella psichica perché oggi mettiamo dura prova ovviamente la psiche di ognuno di noi e guardate che molte persone sono in grossa difficoltà non nego che io ho detto di rafforzare anche i servizi di ascolto psicologici perché molti pensate a tante persone che vivono sole che sono sole in casa da 60 giorni perché poi piove sempre sul bagnato sembra come in malavoglia per citare qualcun altro in malavoglia a loro capitavano tutte le sfighe del mondo e quindi dico che ci vuole rispetto per le persone che sono in difficoltà domande ragazzi ma vabbè ma ne facciamo poche ragazzi oggi se riusciamo a esaurire tutto in una domanda o in una buongiorno c'è sì dai noi si ha la sensazione che ci sia consulzione tra una certa cosa lo dicono i cittadini i cittadini i cittadini i cittadini arrivano mail telefonate messaggi c'è una ricerca di chiarimento una necessità di sapere questa sfilza di norme di provvedimenti su alcuni punti la gente non sa letteralmente che cosa deve fare si dovrebbero fare degli esempi ad esempio l'attività edilizia era parso di capire che si potessero fare opere edilizia privata dalla tua ordinanza invece poi apprendiamo che lo sbocco delle costruzioni non è immediato da darti del governo ma soprattutto c'è una domanda che io avevo rifatti mi era parso di capire che le ordinanze regionali possono agire soltanto in termini restrittivi rispetto ai decreti del governo cioè possono essere restrittive e non distansive nel caso invece ad esempio dei dei tempi uguali dei cibi da sconto in pari di cui hai ampliato una possibilità che il governo non prevedeva ma ve l'ho spiegata ieri questa roba qui scusate il governo prevede che si può uscire da casa per apprecidere per andare a comprare cibo non mi ha scritto ieri questa roba per me la scopo è andare a comprare il cibo se qualcuno non è d'accordo impugna l'ordinanza ho firmato io scusate guardate che noi non cerchiamo le prove muscolari cerchiamo di dare noi tutti i cittadini se lo dobbiamo chiudere tutto saremo tutto andiamo a Roma che consegniamo le ciavi e finiamo così dico qui non è che stiamo giocando battaglia navale col governo e lo dice uno che ha avuto sempre un comportamento rispettoso ho sempre fatto squadra con chiunque in questi due mesi voglio continuare a farla ma che il problema nazionale sia la firma del cibo da sporco di Zaia vuol dire che mi ha niente da pensare perché c'è questo problema penso che i problemi siano aprire le aziende aprire tutti dar modo agli artigiani di lavorare aprire le attività dare una risposta alle famiglie per le scuole non preoccuparsi del cartone di pizza perché Zaia ha autorizzato di andare a comprarsi da mangiare scusate non ce l'ho con te Filippo lo dico perché se vedo che ti batte di nazionale su queste robe peraltro ho fatto anche da altri colleghi non è che sono sono in buona compagnia prego lei Massimo si volevo chiedersi lei ha sempre detto che all'interno dei BPCM questo suo provvedimento di oggi noi inquadriamo completamente all'interno dei BPCM cioè quando lei dice si può i cittadini possono andare alle seconde case era secondo lei compreso nel BPCM di ieri o un chiarimento perché non si capiva ma guardate è un'ordinanza che dà interpretazione a quello che non è tutto ciò che non è vietato è autorizzato nel senso che considerate che non è un'ordinanza dannosa considerate che siamo in una fase di limbo nel quale bisogna dare anche un minimo di raggio di sole ai cittadini che vedono solo buio non mettetevi i panni chi pisa cioè accende la televisione scusate essendo solo volute notizie cioè abbiamo fatto due mesi con morti ricoverati terapie intensive adesso cominciamo questo non si apre l'altro non si apre cioè capite che anche non tutti hanno i nostri strumenti di informazione c'è chi aspetta veramente una conferenza stampa o una comunicazione ufficiale io penso che non abbiamo fatto nulla però ci sono altri colleghi che hanno agito in tal senso e penso che abbiamo fatto assolutamente bene avanti Emiliano buongiorno presidente senta prima le stavo accennando la situazione di questa mattina a Padua dove alcune parrucchiere si sono incatenate davanti al proprio esercizio e quindi queste date il famoso 18 maggio per il commercio al dettaglio e poi per i servizi alla persona veramente stanno come ha ben anticipato mettendo a dura prova questi professionisti dall'altra parte invece c'è un paradosso non me ne voglio al mondo dello sport si apre al professionismo si aprono gli allenamenti qui c'è un mondo che deve lavorare che rischia la chiusura rischia posti di lavoro e dall'altra parte ripeto non me ne voglio al mondo dello sport c'è un altro peso della bilancia e se posso successivamente a questa domanda e quindi se si potesse effettivamente giocare sul mondo dell'avvocatura di tutti questi bonus del PCM o no danno una mano a questi due settori e l'altra domanda è non mi è chiaro come mai vi è stato chiesto una collaborazione regione per regione per comunicare i dati la situazione di una possibile recrudescenza del virus io pensavo fosse già comunque attivo a questo rapporto guardate ieri sera sono state dette due cose che non sono vere la prima l'insinuazione delle regioni che non collaborano la mia regione se lo dici nel mucchio non mi va bene puoi dire alcune ragioni allora bene ma sicuramente le ragioni ancora noi i dati abbiamo sempre mandato tutti i dati che ci sono stati richiesti il Veneto non ha nulla da riproverarsi due peggio ancora quando è stato detto è stato fatto accenno la cassa integrazione la cassa integrazione per noi è ok ve l'abbiamo detto anche ieri il problema è un tema ma ripeto io non voglio cercare contrapposizioni lo dico perché se tu mi chiami in ballo mi tieni in ballo e devo rispondere la cassa integrazione in Veneto non è che non sta arrivando per colpa delle regioni la regione si ha fatto gli accordi con le banche tutte le banche si dicono aspettano lo chiede il governo appunto questa è la versione ufficiale mi basta quindi poi le ITV è perché le regioni ma le regioni cosa non sa mica la Repubblica del Banane con il Veneto e dopo dico guardate lo voglio chiarire una volta per tutto provo imbarazzo quando parlo e vi spiego perché io non sto dicendo queste cose perché ho in mente di fare qualcosa altro nella vita andare a Roma a Tre Minestre segnatevelo lo dico per difendere i Veneti cioè che non ci sia qualcuno che pensa che ci sia qualche retropensiero rispetto a quello che dico lasciatemi fuori da sti casini io ho un compito che è quello di difendere i Veneti c'è scritto nell'oggetto sociale e finché sono qua difendo i Veneti come quando ero Ministro dell'Agricoltura difendevo gli agricoltori funziona così non ho tempo di distrarmi con altre minate che non mi interessano per altro quindi prendete quello che vi dico semplicemente perché va detto in questo momento non è una mancanza di rispetto io non cerco la risa con nessuno però non puoi dire che le ragioni non hanno adempiuto ai propri compiti sulla partita della cassa integrazione oppure di nomi delle ragioni sfido chiunque a dire che il Veneto è stato in adempiente punti dite rispetto ai parrucchiere ai barbieri e quella categoria che sta diventando un po' la categoria simbola hanno ragione da vendere non da da vendere ma a quintali e possiamo raggiungere anche gli assessori che salutano cioè non è possibile pensare ad un'apertura e dire a loro a giugno primo giugno mi sembra che presupposti giuridico guardate qui c'è una sola soluzione rovesciare il ragionamento perché quando le robe si incasinano bisogna rovesciare il ragionamento il ragionamento deve essere rovesciato loro avete capito dell'impostazione partono dalla singola bottega e da lì cominciano a costruire tutto un alleare di norme per riuscire ad arrivare al cittadino perché dicono se tutto sarà blindato il cittadino a questo punto non può non sa neanche mascherine gireremo nudi perché sarà impossibile essere contagiati perché ci tocca stare a casa perché è impossibile fare tutto rovesciamo il ragionamento partiamo dal cittadino e decidiamo cosa serve al cittadino per metterlo in sicurezza serve mascherina guardo una volta che abbiamo scafandrato tra virgolette può andare dappertutto o no e noi avevamo nessuno di problema dobbiamo dobbiamo rovesciare il ragionamento perché gli scienziati gli esperti stanno ragionando impresa per impresa e finisce che poi è inevitabile che questo sistema si incagli non possiamo regolamentare tutto ed è purtroppo l'ufficio complicazioni a fatti semplici che torna fuori perché e io ve lo dico sempre ce l'abbiamo nel dito e non vi fa così trovi due che giocano a briscola e dici datevi due regole e li trovi da notario dopo due giorni se hanno così è un problema proprio strutturale proviamo una volta a fare gli anglosassoni cittadino per essere in sicurezza bisogna di tre robe basta dopo ad andare in negozio se cambia la maglia misura eccetera ma anche lì disinfezione del capo d'avvignamento disinfezione dello stand pulizia dei pavimenti pulizia dei piani di reazione disinfezione della commessa test tampone della commessa dna e tacca dissonanza magnetica ma dove andiamo a finire ma secondo me è una roba che sta in piedi guardate assistiamo veramente a una lenta agonia con questo sistema ed è preoccupante è preoccupante lo dico fuori dal politico lo dico semplicemente perché invito veramente a rovesciare il ragionamento partiamo dalla messa di sicurezza del cittadino di conseguenza poi tutto il resto lo sistemiamo non dico che deve essere free di regole ci saranno delle regole ma minimali a quel punto grazie buongiorno scusami parrucchiere eccetera noi non abbiamo la potestà giuridica guardate l'abbiamo guardata anche contro la luce la legge i miei colleghi noi ci paghiamo a tutte le ore anche stamattina magari potessimo trovare una piglia per cominciare a prendere dell'attività assumendoci la responsabilità così in commercio a dettaglio non c'è adesso potremmo fare qualche allargamento ma arrivare fino a quel punto di aprire l'attività no grazie buongiorno presidente appunto non c'è solo delusione la voce un po' più alta ho una mascherina attesa altissima non c'è solo delusione non c'è solo frustrazione c'è davvero c'è famiglia che sono in estrema difficoltà perché ovviamente il lavoro è collegato alla famiglia quando lei diceva prima di poter in qualche modo potenziare i servizi sociali penso magari anche di una collaborazione maggiore con i sindaci ovvero una buona sua age dei loro confronti cioè davvero si rischiano presidente anche dei gesti mi dico che stanno la disperazione la tua ragione guarda i sindaci hanno fatto un lavoro eccezionale in questi due mesi perché poi i sindaci sono in prima linea con i problemi della gente con i servizi sociali ma dovremmo assolutamente rinforzare tutto quel fronte perché immagino che ci sia un sacco di disperazione iniziano a mancare i soldi molti si scrivono che non hanno i soldi per mangiare perché c'è anche chi viveva ovviamente già tirato prima perché magari ha avuto mutui da pagare spese problemi nella vita quando può accadere e accade e quindi capite che stiamo parlando anche ne parlavo anche prima con Enzo Rosso la consegna dei cibi che loro fanno come fondazione ad esempio per i meno ambienti con la croce rossa e tutte queste attività che sono degne cioè di alto valore umano però ricordiamoci c'è chi uno spartano donare non riesce a mangiare e questi bisogna rimetterli in pista cioè bisogna rimetterli in pista l'ipotesi è che perdiamo 50.000 posti di lavoro la domanda che io mi faccio ma sono 50.000 benestanti o sono 50.000 persone che hanno bisogno di loro stipendio per vivere vi siete già risposti? Antonella Prigioni Buongiorno Presidente dato che il DPCM del 4 maggio in qualche modo ricarica la sua ordinanza dell'altro giorno penso a te che lei crede che quell'ordinanza di oggi possa dare stimolo al governo penso alle seconde case che molti ci stanno chiedendo come il governo dice solo che possiamo andare a trovare un congiunto lei invece ci dà l'autorizzazione di andare a sistemare casa in regione guardi ripeto io non faccio le ordinanze per cercare la vista posso dire mi spiace anche ma magari dagli suggerimenti che poi qualcuno titoli anche in maniera forte sto cercando di dare delle risposte e anche posso dire un minimo di segnali di positività quando decido di firmare l'ordinanza oggi di uscita di casa senza limiti di distanza da casa restando nel territorio comunale e penso che ci sia spazio per tutti per andare in giro e anche per dire insomma che il mondo non si sta affermando perché la sensazione che respiro è ormai della rassegnazione della disperazione e noi non possiamo entrare in quella fase come comunità perché poi penserà su tutto per cui io spero che si che si rovescia il ragionamento guardate lo dico per la terza volta mettiamo in sicurezza il cittadino e apriamo poi capisco i scienziati dicono è sbagliato aprire è sbagliato gli rispetto ma questa è una visione puntuale chirurgica di un solo aspetto e avete bene tante altre cose buongiorno presidente se devo chiederle due cose rapidissime prima è sulla nuova ordinanza lei ha detto che ci si può muovere all'interno del proprio comune naturalmente le persone che per vari motivi non possono muoversi da sole hanno bisogno di un accompagnatore questo vale anche per i bambini piccoli diciamo 6-7 anni minore in teoria minore c'è il tema della vigilanza da parte dei genitori poi volevo chiedere tra le tante segnalazioni che ci arrivano ci sono quelle di genitori che hanno i figli con disabilità grave che si trovano in istituti che ormai sono chiusi da metà marzo che temono veramente il fatto che questa forzata clausura possa avere delle conseguenze molto serie sui loro figli e ancora chi ha invece dei parenti che sono operativi di anzianità di problemi psichiatrici o di sindromi comunque validanti sono in delle case di cura e non possono andare a trovare beh la partita delle case di cura dopo mai le lascio la parola all'assessore Lanzarin che è molto più preparato di me sul tema disabilità e accesso ai luoghi di cura e magari poi dà anche un aggiornamento su questo lì sapete che è stato fatto il 23 febbraio il primo provvedimento restrittivo il 24 febbraio restrittivo poi è ancora più restrittivo viettando ogni forma di accesso il tema è che quelli sono posti dove se i focolai partono fanno danni tragici avete visto per cui è stata fatta questa scelta per la messa in sicurezza ricordo che ad oggi a tutt'oggi da quell'ordinanza di febbraio non c'è più presa in carico di nuovi ospiti quindi gli anziani che attendevano di essere presi in carico e di diventare ospiti di alcune case di poso non sono più entrate nella casa di poso anche questo è un tema perché alcuni anziani sono non autosufficienti oggi sono in carico alle famiglie come i centri diurni altro aspetto che invito l'assessore Nazari dopo di dirvi anche dei centri diurni quindi dove si portano i disabili di giorno e poi tornano a casa la sera io avrei un po' di domande cioè un po' io ne avrei una marea vado velocemente partiamo col direttore del giornale di Vicenza Ancetti che dice lei ha per la possibilità visto che il decreto governativo ha la possibilità di ritirare il cibo d'asporto solo dal 4 maggio l'ordinanza della regione è valida o si rischia che qualche carabiglieri faccia la multa proprio perché la legge statale non è valida non è valida anche perché se è vero che prima non lo prevedeva è più vero è più vero adesso di prima seconda domanda il decreto del governo dice che sono sospesi i servizi per l'innovazione poi posso dire se vuole anche coraggio vietare alle persone che sono per strada di andare a comprare il cibo cioè ne vuole tanto di coraggio il decreto dice sempre il direttore Ancetti riporta che sono sospesi i servizi per l'infanzia questo rischio di bloccare il tentativo in alto della regione con la FISM e gli altri per riaprire centri e con i figli di chi va al lavoro io spero di no perché il nostro obiettivo è quello comunque di dare una mano alle famiglie non è facile e auspichiamo e dirò anche che il collega Bonaccini sta chiedendo appuntamento una co-conference o una videoconferenza al ministro Zolina per poter poi proprio parlare di scuole perché il nostro tema che ci preoccupa le scuole cioè ragazzi ci sono migliaia di ragazzi a casa minorenni che hanno necessità di essere accogliti quindi di essere sorvegliati Dalmas torna sui temi dell'estate e del turismo i tedeschi tutti al mare in Croazia e Slovenia anziché da noi cosa si può fare per ragionare l'accordo di tre paesi sul corridoio delle vacanze lo vado a chiedere il ministro degli esteri scusate con Dalmas ma capite che livelli siamo presi cioè la Croazia fa accordi del corridoio delle vacanze con la Germania Germania che è il nostro primo cliente cioè in assoluto sono dei familiari per noi i turisti tedeschi qua noi non abbiamo capito di cosa ci stiamo occupando in questo momento Dario Converso torna sul tema che le categorie di artigiani barbieri barbieri eccetera sono scesi in protesta dura cosa ne pensa la parola io immagino che sarà solo l'inizio questo anche perché dalle mail dai messaggi che ci arrivano c'è il mondo intero che è in agitazione io sono contro la violenza sono sempre per come si può dire il trovare la soluzione perché poi la violenza non salva niente però bisogna che ci siano entrambe le parti che hanno voglia di fare un passo io sono convinto faccio questo appello che il governo abbia ancora gli spazi per rivedere la modalità di ragionamento e di approccio a questo problema la convivenza del virus l'abbiamo capito tutti i rischi l'abbiamo capito tutti partiamo dalla messa in sicurezza del cittadino lavorino su questa visione il collega Bonet il Corriere del Veneto bentornato che ha avuto non si può dire è noto nella categoria comunque bentornato ha una domanda per il Presidente lui è d'accordo con la scelta prudenziale del governo Conte evidentemente dettata dalla paura della ripresa dei contagi oppure lei avrebbe riaperto tutto subito compresi bar ristoranti parrucchieri estetiste come chiesto da Salvini che ne pensa della forzatura del collega Federica in più di venire che forzatura non ho capito che forzatura ha fatto Federica sinceramente comunque lei avrebbe riaperto ok la domanda però non è che la domanda mi sia posta come ha detto Salvini perché non sono a conferenza stampa per parlare di politica sto dicendo che assolutamente io sono convinto del fatto come tutti i colleghi Presidenti che si possa riaprire tant'è i colleghi Presidenti abbiamo presentato assieme un documento ed è assolutamente in linea con il pensiero di tutti anche con il pensiero di Salvini però non vorrei che questa conferenza stampa avesse un valore politico però l'ho detto all'inizio stiamo parlando dei problemi dei veneti e possibili soluzioni seconda domanda che è più invece tecnica tecnicamente l'ordinanza di oggi liberi entri confini comunali resta nell'albero del DPCM o va oltre forfando un po' resta nell'albero della legalità abbiamo il collega Fioretti invece di fare intervista è quello che sanno tutto ripeto c'è sempre uno strumento fare un ricorso andare in tribunale prego a tutti che parlano ma nessuno che va in tribunale domanda di tutti come si pensa di affrontare il discorso dell'abusivismo nel settore di acconciatori e padrucchieri diventata anche questa una pandemia evidentemente si risolve riprendo le attività Federiva collega del Gazzettino allora prima domanda la regione manterrà comunque l'obbligo di mascherina dappertutto e per tutti anche in strada per passeggiate runner e anche per i bimbi guardate questa peraltro sarà un'andozione a livello nazionale di misura che è quella della mascherina e il tema non so se avete visto è stato fissato un prezzo per le mascherine 0,5 sta esattamente accadendo quello che vi ho detto io vi ricordate quante volte vi ho detto sblocchino l'ordinanza sui sequestri se sbloccano quelle arrivano le mascherine da fuori e quindi sono mascherine che si trovano sul mercato anche a prezzi molto inferiori a questo ve lo dico per esperienza e tutti a dire no ma bisogna incentivare la produzione nazionale io sono d'accordo e cosa vi dicevo bisogna però pagare un aiuto alla produzione cioè dare un aiuto alle imprese che producono mascherine a livello nazionale veneto o quelli che siano per poter stare sul mercato ma se tu dici che 50 centesimi è il prezzo tutta la produzione nazionale sparisce sparisce perché adesso si è costo di produzione in Italia 50 centesimi neanche perché noi posso garantirvi che abbiamo comprato mascherine per differenziare gli approvvigionamenti venete certificate chirurgiche a un euro a luna seconda domanda alla luce del DPCM che non ne parla il progetto centroestivi della regione potrà riguardare anche i bimbi del 6 anni in su quindi coinvolgendo a questo punto non solo le scuole statali ma anche le fattorie le associazioni le palestre scusa mi sono distratto alla luce del DPCM che non ne parla dice la federiva il progetto centroestivi della regione potrà riguardare anche i bimbi del 6 anni in su noi stiamo lavorando a questo come dicevo ieri la definizione di congiunti pare escludere compagni fidanzati persone non legate giuridicamente da parenti che è scritto congiunti il governo si può andare a visitare parenti del resto dei congiunti però in effetti cioè non lo so guardate condivido con lei questa osservazione ma non so giuridicamente dove si è scritto questo termine non lo so bene torniamo avanti il congiunto poi chi è giuridicamente il primo e il secondo ci sono delle sentite come dice l'assessore amorosa dice Danilo Guerretta è preoccupato per le tensioni sociali che potrebbero scartenare infatti devo dire che chi mi ha chiamato tutti quelli che mi chiamano faccio pompiere nel senso che ho ancora speranza che il governo possa dare una giustata si potrebbe fare velocemente se il governo non si confrontasse con le regioni in questi giorni si potrebbe trovare una soluzione la collega di Grussimor sempre del Corriere del Veneto dice protesta dei parrucchieri la regione potrebbe autorizzare almeno loro e gli estetisti a vendere almeno i prodotti non potendo fare i trattamenti potrebbe essere lo sfruttamento del magazzino però giustamente gli operatori direbbero che avrebbero costi a stare via a tenere un negozio a parte per vendere una bottiglia di l'alca ogni tanto ho l'impressione che sia diseconomica è più una soddisfazione ma non ha non ha poi pregnanza economica rispetto all'artigiano che vive della sua opera non vive della vendita del prodotto considerate che c'è un codice a te che ho autorizzato già dal 18 di aprile che è quello delle profunerie e quindi lì hanno la possibilità di approvvigionarsi di tutto di gel di lacche di creme e quant'altro per cui ho l'impressione che in linea di ragionamento giuridico secondo me ci sta ma non risolviamo il problema di chi è artigiano che lavora con le mani seconda domanda e anche gli affigiani orfi chiedono di riaprire chi è che ha un po' che deve riaprire con te questa mattina si sono unite le ARPA delle regioni del nord qui magari poi lascia vota città per capire se c'è correlazione fra smogli covid e la domanda e poi l'ultima domanda è stato quantificato l'ultima domanda è stato quantificato il premio che darete ai medici no ancora no però è stato deciso giustamente come avevo anticipato di riconoscere un premio anche in maniera meritocratica rispetto all'esposizione eccetera che discuteremo ovviamente con le parti sociali perché si è che incontro a Romani che mi sembra il minimo però voglio anche ricordare che per noi è un premio doveroso è poco rispetto a quello che si meriterebbero io sono stato da teoria che bisogna dare stipendi più alti due a loro e agli insegnanti se volete che vi ripeta quello che dico da sempre due voglio ricordare che il nostro premio vale molto di più perché dobbiamo aggiungere l'addizionale IRPEF che noi non applichiamo e quindi non abbiamo sottratto in dieci anni mediamente il medico 4.850 euro in dieci anni quindi è il premio più tutto quello che abbiamo cascato sull'addizionale IRPEF ne approfitto se mi date una mano nella busta paga c'è scritto addizionale IRPEF regionale e giustamente i cittadini mi chiamano ogni volta quando dico che non applicano le tasse come faccia stipula a busta paga io ho fatto anche un ricorso in tribunale ricordo in quell'anno perché dissi che il governo Monti se voleva applicare la tasse doveva cambiare il nome non chiamare l'addizionale IRPEF regionale perché l'1,23% sul reddito si paga direttamente a Roma ma il nome di busta paga resta ancora hanno utilizzato un vecchio veicolo una vecchia tassa una vecchia denominazione allora il governo Monti per applicare una tassa che aveva il gettito nazionale quindi perché io dico che non appliciamo l'addizionale IRPEF regionale perché noi quel 1,23% non lo incassiamo noi va direttamente a Roma noi possiamo incassare dall'1,23% in su ma non lo applichiamo quindi non incassiamo nulla spero di essere stato chiaro quindi quello che vanno di busta paga non viene dato alla ragione del Veneto e in causa non hanno voluto cambiare il nome della tassa perché io ho detto mettete l'addizionale IRPEF statale e si togliete dalle scatole con la regionale perché noi i soldi non li vediamo domanda di carattere scientifico sempre del Nicolussi poi passo al direttore Basso nuovo caso di contagio come lo spiegano gli epidemiologi guardate penso che bisognerebbe vedere che contatti ha avuto questo signore immagino che non sia un contagio primario ma sia secondario avrà avuto avrà avuto un contatto con qualcuno che l'ha infettato a meno che non sia un negativizzato che sia ripositivizzato ma lì abbiamo quel punto il professor Cresanti che gli farà la radiografia totale perché sarà oggetto il prelievo del sangue faremo un sierologico e il professore ha anche detto che farà una mappatura del genoma per cui sapremo tutto di questo caso però ripeto può essere un caso che banalmente si sia andato infettare al bar del comune vicino anzi il bar è chiuso insomma in un supermercato in coda di un supermercato che ha trovato un asintomatico positivo l'ha infettato bisogna capire se portava la mascherina in vita se scusate la mascherina comunemente oppure no ci sono tante analisi da fare è un caso interessante direttore basso che siamo le ultime due e lei pensa anche a un'ordinanza per spostarsi da provincia a provincia adesso siamo fermi qui dal 4 maggio vedremo cosa accade intanto abbiamo deciso di uscire di casa non stare con il metro in mano a misurare la distanza se girano nel territorio comunale evitate gli assembramenti siate assolutamente come si dice responsabili come i veneti lo sono sempre stati i veneti non hanno bisogno di ordini al massimo possiamo dare qualche consiglio e il consiglio è di portare la mascherina per permettere di sicurezza della nostra salute e quella degli altri punto evitate gli assembramenti se riuscite anche se avete minori penso a una coppia che potete avere due minori magari fate l'uscita un genitore con un bimbo con un altro bimbo è vero che potete uscire anche tutti e quattro assieme ma se evitiamo di fare cortei nelle piste ciclabili nelle passeggiate è meglio è sempre obbligatorio la mascherina sì uscita individuale è obbligatorio la mascherina Michele Borrera Radio Conegiano come si devono comportare i genitori separati con figli che abitano in comune di Vesco posso rispondere possono raggiungerli ecco qui è bene ricordare che possono raggiungere i figli cioè non è dall'inizio ci vuole l'autocertificazione mi sto recando da l'indirizzo per la visita ai figli come la tribuna lei è disposta da giudice io lascerei una secondo giro e poi mi chiedo una cosa prego ci sono due questioni che forse hanno un certo interesse generale uno è competenza statale insomma lei ci ha fatto tutto questo il problema della scuola sta veramente diventando un problema di impatto familiare perché ci sono da una parte le famiglie che si apprestano a tornare al lavoro e hanno magari dei nomi in cui si è detto che vanno seguiti che vanno accompagnati eccetera ci sono anche i docenti poi che nella scuola dell'obbligo hanno dovuto praticamente in due mesi avviare una rivoluzionale attività didattica digitale che non avevo magari sperimentato negli ultimi dieci anni è un problema che diventa pressante questo è un tema l'altro tema è quello che i sindaci ma anche qui devo dire che in maniera interversale anche loro chiedono un confronto proprio come tutti i solleciti e un confronto tra il governo e la regione anche loro chiedono un tavolo per stabilire magari un percorso per chi ha un protocollo per la scuola no in generale per affrontare la presenza ma guardate che i sindaci sono rappresentati dello stesso tavolo dove ci siamo noi se voglio ricordare che c'è il rappresentante del Lanci nei tavoli cioè non è che facciamo delle cose come si può dire in dissociazione cioè nel senso che non è il tavolo è l'unico nazionale le linee gude vengono fatte a quel tavolo cioè i sindaci sono assolutamente parte integrante di questa squadra l'ho sentito anche questa mattina il presidente del Lanci Conte ovvio che è un momento difficile e capisco la difficoltà dei sindaci però devo anche dire i sindaci sono ben rappresentati perché hanno oltre il loro presidente nazionale del Lanci c'è anche il presidente Marcon come Upi ma che è anche sindaco nella cabina di regia io non so per dire cabina di regia nazionale quindi i sindaci di fatto hanno due rappresentanti noi come regioni ne abbiamo tre Bonaccini Musumeci della Sicilia e Fontana della Lombardia sul fronte scolastico è possibile cioè sul fronte scolastico noi stiamo lavorando l'assessore Lanzarin assieme all'assessore Donazzan stanno lavorando questi temi considerate che è un tema che è di competenza nazionale per cui se si decidesse di fare qualcosa di importante con le scuole potremmo avere già buoni risultati Tele nuovo Buongiorno sempre tra le sede di Tele nuovo giusto per essere chiari da qui al 4 maggio c'è qualcos'altro che lei potrebbe fare e l'altra domanda è questa mi serve di aggiatire un senso da parte sua di non solo delusione rispetto a ieri sera insomma un po' forse è il rumore italiano però ha anche un senso di impotenza è così? Ah beh sì non è chiaro che abbiamo fatto un referendum in Veneto poi viene fuori in questi contesti nella necessità di poter decidere i colleghi ad esempio di Trento e Bolzano possono assumere le decisioni che sono assolutamente più come si può dire più libere delle nostre però a di là di questo a me non interessa che di questo punto stampa resti questo non c'è nessuna volontà di cercare conflitti non c'è nessuna volontà di politicizzare questo momento però c'è la volontà di risolvere il problema il governo se c'è fatto un colpo nel senso che il provvedimento che sta preparando a mio avviso non funziona ma non funziona perché non è il ragionamento che sottende la soluzione che ci dà un approccio sbagliato giustamente è come dire chiudiamo le strade perché la gente si ammazza in moto forse vorrebbe la pena dire di rendere obbligatorio il casco e tenere tante le strade quindi capite che ci sono migliaia di esempi che possiamo fare e penso che stia diventando un bizantinismo un bizantinismo pure ricordate come si studia nella storia dell'arte il periodo bizantino c'è tutta questa torniamo a una visione un po' più massiccia delle cose e molto più semplice perché se no non finia più a me preoccupa ve lo dico con chiarezza e al massimo rispetto degli scienziati mi preoccupa che non diventi quando mai uno scienziato può trovare un terreno da analizzare come quello che si è creato in maniera naturale siamo fuori dal laboratorio è ovvio che è naturale umano che si voglia sperimentare qualsiasi possibilità poi immagino anche la competizione internazionale no? vediamo chi sta più bravo a trovare soluzioni ho l'impressione che sia un panettone che sta lievitando non so a che punto arriverà bene scoppiare però poi siamo anche davanti spesso a scienziati che si simentiscono tra di loro questo non possiamo non evidenziarlo però noi non dobbiamo discutere della scienza perché la scienza è una roba è sacra però dobbiamo discutere la vita dei cittadini in questo ciclo della scienza presidente posso un commento grazie mi sembra ieri sera dal discorso del premier che si è cambiata anche un po' o cambierà breve la visione della nostra casa fino a poco tempo fa era un guscio protettivo ieri sera con dati anche alla mano epidemiologici Conte ha spiegato che anche all'interno delle nostre abitazioni dovremo mantenere distanze insomma sono consigliate sembra veramente che non se ne esca più da questo guardate cosa volete che vi dica che se viviamo in casa con lo scafandro con le bobole dell'ossigeno come i sub sono quasi certo il 100% del virus non lo prendete mai e anche se continuate ad uscire anche fuori ma riportate anche le pime e andate tranquilli ma di cosa stiamo parlando cioè ma voi dovete parlare di vita reale non di inquietare le persone dire ma in casa è un luogo di infezione ovvio se c'è un positivo in caso c'è il rischio che si crei un cenacolo per il virus ma non è una banalità questa prego posso chiedere posso chiedere allora la richiesta che fate direttamente al governo mi sembra di capire è quella di riaprire una discussione su questi temi ma io lo faccio io queste richieste non ho la vellidità di rappresentare il mondo cioè nel senso che penso che ragionevolezza e buon senso ci porti a dire che non è che il problema sia quello di una condivisione di consenso popolare è un problema di buon senso cioè non può funzionare così non può funzionare così cioè cosa gli vai a dire ai barbiere e ai palunchiere è ovvio che ci sono anche altri che hanno problemi non faccio sempre l'esempio che a giugno non sono a rischio prima sì ma lo so in base a che regola se il virus c'è c'è sempre no? se il virus c'è c'è sempre non è che cambia fra un mese ce ne sarà di meno virus ma ci saranno talmente tante persone che hanno a tagliarsi i capelli che immagino che comunque si concentrerà tutto lì a questo punto forse per assurdo dovremmo non mai chiuderle perché comunque diluivano anche gli assembramenti del parrucchiere cioè capite che no poi vuol dire ho visto la disinfezione delle maglie e dei capi di abbigliamento dei negozi capite che c'è che ha un senso tutto ha un senso ma anche usare i disinfettanti per farci rio cioè ho conosciuto persone che si lavavano con l'alco in passato ma quelle diventano psicosi non è più una roba normale se ci laviamo con l'alco probabilmente siamo più sterili per averci con l'alco e sapone però non vi dico davvero con l'alco che è una follia ma a livello di rapporti con il governo cioè le regioni la regione merito se non altro chiede una nuova interlocuzione ma le regioni non hanno mai chiuso la porta no no si un nuovo però con un'altra certo noi abbiamo bisogno di avere delle risposte questo è poco ma sicuro guardate il 4 arriva sicuramente si apriranno delle aziende avresteranno un problema per molti artigiani però non voglio che si lega con un atto di irresponsabilità quello che si sta io ho ben coscienza di qual è il rischio però così non si affronta poi ma non è che mi è sbagliata però di come la penso io mi saluto l'ultima domanda che volevo fare il presidente visto che si confronta spesso con i presidenti delle altre regioni se per quello che ricorda lo spostamento che non si è motivato da visite a parenti o lavoro salute da una ragione o dall'altra è stato avesso all'ordine del giorno ma al momento sembra addirittura che il PCM prevede un periodo proprio una finestra nella quale non si può proprio uscire dalla ragione poi leggetelo bene dicendo alcuni punti sono ancora molto nebollosi tipo le uscite di casa come si possono fare come alcuni suoi colleghi sulla campagna ma è quello più famoso diciamo non vuole ingressi dall'esterno diciamo se di questo avete parlato per esempio per l'estate si potrà sbloccare questa situazione cosa volete che vi dica ho già detto quello che penso nel senso che è una pratica di natura di regole sanitarie che in linea estrema vi ricordo che la Costituzione non prevede la chiusura dei confini la Costituzione dice che non si possono chiudere i confini delle ragioni lo dice la Costituzione ve lo dico in maniera banale però è anche vero che in caso di emergenza uno può fare mettere in piedi le quarantene però a questo punto sto pensando una cosa se è quarantena è per chi entra ma anche per chi esce perché se no uno che esce lo prende il virus e lo porta a casa quindi vuol dire che chi propone di chiudere la propria ragione a mano deve vietare i propri cittadini di uscire la logica sanitaria travede questo o no? posso chiedere un'ultima cosa perché dicevamo tantissime telefonate e quando leggeva l'ultimo decreto mi sono immediatamente venuti in mente due telefonate che è riuscita nell'ultima settimana da parte degli aeroclub che non possono andare degli iscritti chiaramente a fare manutenzione nel proprio aeroplano e ha detto per le imbarcazioni è possibile sarà possibile anche per noi mi ha dato un'idea l'avevo ancora firmato aggiungo l'aeroplano io con l'ultimissima cosa grazie grazie presidente vi lascio la parola tre pietra un po' mi ha detto leggera la domanda oggi eseguiamo la mascherina rossa esatto c'è l'unica non è che già faccio fatica a parlare questa mascherina aspetta togli l'antimo no non è vero i cavalli a quanto mi riprendita si possono spostare solo per andare al macello però ci sono tanti che hanno il proprio cavallo asinello con i magari al maneggio non possono neanche andare a fare una carezza insomma è così ma l'abbiamo affrontato sul tema devo anche dire la verità che lo stiamo approfondendo perché il tema dell'animale della compagnia dell'accudimento però ti rispondo che l'accudimento c'è già nel maneggio perché c'è chi c'è un tema di sentimento poi no di affezione e stiamo lavorando stiamo facendo questo approfondimento il posto di anticipare questo e secondo me anche questo è un tema poi devo anche dire che non verrò mai di parlare prima perché c'è gente che mi scrive perché tu stai bene a casa e i tuoi cavalli non sono i cavalli non sono più è morto purtroppo il mio cavallo ne avevo uno solo e poi ho sempre evitato di parlarne perché poi qualcuno non mi venga in mente che io mi risolvi i problemi non ho cavalli da accudire per cui se ne parlerò è perché molti ci hanno scritto per questo molti ragazzi ragazzi piccoli perché noi abbiamo tutta la squadra scoperto che fanno concorsi con i poni c'è tutto un mondo bravi non dico quanti bambini mandano foto di cavalli se ne arrivano se vogliono dire una roba ho provato delle biblie siccome ci scrivono in tanti per sapere quando facciamo la mostra la faremo fuori da sto casino ovviamente però stanno arrivando un sacco di materiale veramente verrà una bella roba e con questo lasciamo la parola all'assessore del frattempo grazie grazie il presidente è giunto questo da di un'infinito ciao ringrazio ringrazio gli inquiniti del palazzo per mandare un messaggio grazie non ringrazio grazie grazie a tutti mi sembrava che c'erano due questioni una quella sui disabili allora voi sapete che sui disabili sono chiusi ormai dalla sera qui a marzo i centri se ne ristanzali c'erano i centri di urmino quindi quelli che avevano disabili che arriva se ne cavano questi centri la mattina e poi alla sera un'eriggio tornavano a casa e quindi per i maliotti presso della giornata a casa noi li abbiamo chiusi dal 6 abbiamo chiusi i centri di urmino di residenziali per i disabili anche i centri che hanno fatto i centri anziani quindi anche i centri presi anziani ma anche i centri tipo i centri di solliello che sono i centri in cui i malattie del zain vanno e quindi rimangono sempre durante 2-3 giorni alla settimana allora abbiamo tante richieste di apertura soprattutto per quanto riguarda i disabili perché come voi sapete insomma c'è una fascia oltre i bambini e i piccolini insomma dopo le scuole dell'obbligo ma ci sono molti disabili sui 50-55 anni che hanno molti disabili che sono accuditi durante la giornata vanno in questi centri diurni e poi durante la sera torno a casa e i genitori anziani che ovviamente è un peso importante allora la struttura sta un po' la struttura prevenzione la struttura direzione nei servizi sociali stanno cercando di capire come poterli eventualmente riapparire in maniera modulata in sicurezza vi ricorderete che noi comunque abbiamo già fatto una vendita di giunta che ha ricevuto uno degli articoli che era dentro il DL18 il primo decreto importante che prevedeva che i centri semi-residenziali ci fosse comunque riconoscimento durante la chiusura insomma delle attività noi abbiamo tramutato questo articolo con l'accordo di due relazioni cooperativi della politica COF e Fede Solidarietà e ANFAS in dei progetti che adesso i gestori stanno facendo giù il territorio rispetto a distanza a remoto dove possibile oppure al domicilio adesso cercheremo di conciliare sia questa previsione insomma di questi progetti metti anche chiamando uno alla volta disabili al CEO del centro di urna eccetera come si stanno un po' organizzando nei singoli territori ma stanno valutando anche seriamente il discorso di riaprire anche se non in maniera continuativa in maniera modulare a grittetti un po' più piccoli potete dare questa risposta ai genitori ma anche ai ragazzi insomma che hanno bisogno di socialità hanno bisogno di trovare anche l'ambiente familiare e il centro di urna è l'ambiente familiare è l'ambiente familiare ma passando all'altro atto di un minore non so che cosa esatto no su di noi il Presidente ha già detto abbiamo fatto un incontro la settimana scorsa con le varie sigle l'ambiente familiare sono comunali poi c'era appunto la parte sanitaria la parte sociale l'ufficio scolastico regionale è rimasta ad oggi e ci devono arrivare ci stanno arrivando una serie di osservazioni la direzione prevenzione sta mettendo insieme un po' tutte queste osservazioni in più delle modalità insomma anche noi abbiamo un po' così pensato il modo da costruire un piano il piano chiaramente non prevede la riapertura di attività didattiche scolastiche questo non lo possiamo fare ma tutte le altre attività che possono una serie di accompagnamento utilizzando queste strutture i centri estivi quindi quelli che possono fare le parrocchie quelle che possono fare i comuni i crest quelle che possono fare alcune associazioni sportive che hanno avuto durante soprattutto il mese di luglio e di agosto stiamo cercando di mettere insieme un po' tutta diciamo questa fattispecie dare delle regole ben precise e poi ci confonderemo e capiremo la volontà nostra quella di dare una risposta ai bambini ai minori rispetto alla socialità al gioco l'arrivo insomma di essere un po' più più liberi e anche di incontrare anche i bambini con le misure che insomma si riescono a mettere in atto e anche rispetto ai genitori quindi io credo che la volta di mercoledì o giovedì faremo un nuovo incontro con tutte queste parti per condividere e poi capiremo un po' dal punto di vista legislativo effettivamente fino a dove possiamo andare insomma con la volontà che c'è spesso per steve vi siete posti anche una scadenza su cosa potrebbe avvenire la riapertura per esempio degli asili se già il 4 maggio potrebbero avvenire allora è chiaro che si stiamo lavorando questa settimana forse a 4 o 5 minuti diciamo insomma perché poi si devono preparare comunque a 20 di un certo tipo eccetera però l'importante io credo è avere un piano ben definito poi sarà anche eventualmente non so qualche giorno in più la settimana prima è importante sempre avere un piano quindi finalmente è quello su cui stiamo lavorando grazie aggiusto per precisare che lo sposo sessore Zaya l'ha annunciato prima ma insomma la possibilità esisterebbe anche per i bambini sopra i 6 anni sì sì lo stiamo facendo un ragionamento allora l'incontro che ho fatto è quello che si ha detto 06 quindi a finito 03 è per 6 scuole di infanzia parentale perché comunque ho avuto una richiesta da parte di questo però oggi alla luce un po' di quello che sta succedendo e anche avendo richieste poi per le altre fasce quindi per giù tutta quella della primaria stiamo ragionando perché le stesse misure che noi potremmo inserire in questo piano per le scuole materne potrebbero essere le stesse che quelli tra il sestivo per il centro estivo diciamo così insomma la tipologia che c'è Assessora il costo sarebbe a carico delle famiglie oppure state pensando anche sui dati questi costi avevano già a carico delle famiglie durante insomma nella normalità insomma sia la parrocchia il comune la cooperazione eccetera organizzavano queste strutture queste settimane insomma diciamo di accolimento di scuole sport insomma tutte quelle attività che hanno permesso e poi hanno a carico e sono sempre state a carico delle famiglie a meno che i comuni non condividuissano in qualche modo faremo una valutazione insomma per noi è oggi importante avere un piano per il finito capire prima dove ci possiamo sfriggere per fare le qualità che riguarda grazie Assessore ti eri aveva già i dati sul mercato nel pomeriggio riforniamo la tabella complessiva perché abbiamo la tabella complessiva io vi posso solo dare due dati che sono importanti intanto continua il monitoraggio delle strutture con i tamponi quindi anche il discorso che abbiamo fatto ieri rispetto a casi che erano con i test rapidi negativi e poi invece si sono verificati positivi anche perché insomma comunque continua il monitoraggio con i tamponi non solo per i casi ma in generale abbiamo previsto comunque che ogni settimana insomma vengono comunque fatti dei tamponi quindi ogni 20 giorni controllati 20-12 giorni infatti sono stati fatti un po' di tamponi in più riscontrano appunto di nuovi test che sono state fatte le nuove verifiche noi abbiamo più 168 ospiti positivi quindi rispetto ai 2.154 ne abbiamo 2.322 oggi in tutto il Veneto quindi parlo al dato complessivo poi lo vedete anche diviso per azienda sanitaria di questi 306 sono ricoverate in ospedale quindi 306 persone sono ricoverate in ospedale e rappresentano rispetto al monte di ospiti complessivi il 7% eravamo 6,5 6,4 insomma cominciamo arrivati al 7% per quanto riguarda gli ospiti rispetto ai 1.133 di una settimana fa perché poi ho visto i dati erano del 26 quindi una settimana fa oggi abbiamo 1.104 quindi più 101 per attori positivi e siamo rimasti a una percentuale del 3,6 quindi insomma siamo abbastanza in linea i decessi sono aumentati da 3,75 a 4,88 altre domande se non passere alla sessione votaci sull'incontri ARPAV inquinamento regione che era la domanda della collega di Gerussi di Cosbert un attimo ragazzi che finiamo scusa a lui ci portiamo fuori perché ah vai vai ci devi collegarti il fatto è che poi la RAI poi dopo non dica non faccia i complottismi o le lezze meno no siccome siccome mi viene chiesta una parte che è assolutamente delicata che è quella del messo di causalità mi fa ricapire fra gli anni 10 nei compiti allora sottolineiamo che su questo sono uscite due due notizie di stampa ovviamente con gli autori mi pare sia Sima che ha spinto queste notizie una verso metà marzo e una più recente la prima diceva sostanzialmente ipotizzava la possibilità che ci fosse un collegamento fra diffusione del virus covid e la presenza di pm10 questo in considerazione del fatto che avrebbero individuato un maggior numero di casi di contagi di covid nelle aree in cui c'è maggiore inquinamento la seconda invece più recente dove si è detto ma è stato trovato dell'RNA del virus sulle particelle sottili e quindi insomma è la conferma che il veicolo possa essere anche quello non al veicolo del contagi in questi giorni c'è stato rispetto a queste due altre nozioni di SIGMA SIGMA è Società Italiana Medicina per l'Ambiente piuttosto violenta fatta da alcuni scienziati uno dei quali è il adesso non ricordo il nome insomma il Politecnico di Milano Stefano Caserini ma poi c'è Francesco Foraschiere dell'infetologia di Regione Lazio e tutta una serie di altri scienziati che sostanzialmente dicono guardate abbiamo visto questa cosa però attenzione a veicolare in bocca a magna queste notizie perché creano allarmismo di fronte a una situazione che non è per nulla dimostrata e lo dicono gli stessi che l'hanno proposta gli stessi di SIGMA allora ovviamente cosa vuol dire tutto questo vuol dire che uno allo stato attuale non esiste una dimostrazione scientifica del fatto che ci sia un collegamento fra diffusione del virus e PM10 e dico veicolo del virus loro hanno sostenuto che dove c'è PM10 il virus si veicola più facilmente non che ci sia una come dire una una popolazione predisposta più facilmente a subire gli effetti del virus si parla di contagio diffusione del contagio non di effetti che poi avrebbe il virus sul paziente contagiato non so che è una differenza ovviamente chi è sottoposto a un'area in cui c'è un inquinamento maggiore probabilmente c'è un'incidenza di malattie respiratorie maggiore e quindi la predisposizione a qualità di virus di contagio di subirne le conseguenze in maniera più importante ma non è questo quello che era ipotizzato all'interno di questo contesto io dico semplicemente che e lo dico sempre che è fondamentale la comunicazione in protezione civile fa parte del sistema della protezione civile della comunicazione abbiamo sempre detto e quando c'è un'emergenza è fondamentale ciò che si comunica ai cittadini e le istituzioni per comunicare ai cittadini lo fanno attraverso di voi attraverso gli ordini di stampa quindi avete un ruolo fondamentale nel sistema di protezione civile il presidente vi ringrazia sempre e mi unisco a lui però bisogna farlo anche come dire in maniera corretta senza debordare la destra e la sinistra e non sempre è facile me ne rendo ben conto anche perché o gli occhi non è sempre facile in emergenza verificare la fonte della notizia quando c'è una società che si chiama società italiana medici per l'ambiente sembra una fonte autorevole il problema non è la fonte sono assolutamente una fonte autorevole ma è uno scienziato quando legge c'è la possibilità che è dice vabbè l'ora non è dimostrata non so se mi spiego la posta la massima con questo io non sono negazionista non sto dicendo non c'è collegamento e non sto neanche dicendo che c'è assolutamente collegamento semplicemente perché io non sono in grado di dirlo in questo modo allora siccome non siamo in grado di dirlo cosa abbiamo fatto? abbiamo detto alla nostra agenzia l'Apav di metterci in moto per cercare di capire di più su due fronti noi ci stiamo movendo principali il primo è con l'università di Padova la facoltà di ingegneria civile e ambientale con la quale collaboriamo anche su altri fronti e con il comune di Padova per cercare di capire gli effetti del lockdown sull'infinamento ambientale cioè su come è variata la quantità di PM10 di ossidi di azoto sono dei principali il secondo fronte invece lo portiamo avanti sempre con l'università di Padova ma in questo caso con la proprietà di medicina e insieme agli altri regioni del bacino padano quindi l'Emilia Romagna la Lombardia e il Piemonte insieme alle loro ARPA e insieme anche a Ispra non è escluso anzi è già stata chiesta la collaborazione anche di altri soggetti massimalmente autorevoli in materia scientifica e stanno lavorando anche questa mattina si sono limiti io e la collega della Lomba Consiglio regionale quindi non ho novità aspetto a questo ma so che questa sera il direttore generale di ARPA mi ha già detto che mi darà un'informatina su questo informatino non so se ho risposto invitare più che esaurientemente altre domande? chiudiamo qua grazie a tutti buona giornata grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.